Molte cose, deve tornare il finanziamento pubblico, è stato un errore eliminarlo? Io penso che vada fatto un ragionamento, vada fatto un ragionamento serio, se le forze politiche sono in grado di farlo. Io penso che non sarà possibile, perché magari il Movimento 5 Stelle, per dirne una, ma insomma posso poi anche non essere da solo, continua a fare propaganda su queste robe. E quindi questo però, questa inchiesta che poi è l'ennesima su tante cose che devono essere provate, è la dimostrazione che togliere il finanziamento pubblico non risolve il problema della corruzione. Il problema della corruzione si risolve solo con politici seri, affidabili, persone per bene e quant'altro. È chiaro che se tu togli il finanziamento pubblico, dai più potere alle lobby. Forse è questo che vuole il 5 Stelle. Movimento 5 Stelle.